Ah, le batterie. Scommetto che anche a te si scaricano sempre nel momento sbattato. Sto abbandonando il suo più bello. Eh, bello, si fa per dire. Supera lo stress da ricarica, almeno quando guidi. Scegli i libri di un'altra e diventiti presa e ricarica. Auri Cyber Tooling Sports, 50% elettrica, 100% sp...